Il mondo non era male come sveglio, no? Addirittura, a essere oggettivo, era perfino meglio non solo. L'ho fatto da dire che vuoi fare? Va, parlamo ora, vai, vai. Ma il corpo è sempre qui. Fai te la farò di esse! Vai, vai. Ci facciamo tomar pure agenda, vai, vai. Telefonia che facciamo wheelie, cefere da agenda. bravo, ti ha salito qua ma molto, questo è... questo è un vettore vai maestro Lamagna colui che ha reso Shakespeare napoletano giusto maestro signora, ho già tu mezzo sta a posto non si RPM non si stia non si sia ma devo dire ma sei un po' questo è l'aiuto è la stagione non si è non mi piace innanzitutto con i luigi Quattrocento secoli di pizza accadendo. Quattrocento secoli di pizza. E non basta, non basta. Quattrocento secolo, a quattrocento secolo. Quattrocento secolo di pizza accadendo. Qualcattrocento secolo di pizza accadendo. Grazie a tutti.